Sì, è teatro, le opere miliche che ha scritto, Borgave e così via. Però quello che è importante è ricordare che lui aveva quattro figli, Leopoldine che morirà il giorno del suo matrimonio col marito annegandosi nella Senna, François e Charles che moriranno mentre c'è la comune a Parigi, quindi lui che era contro Napoleone III per ribellione, quando fu tradito e ci fu il colpo di Stato, Vittorico lasciò la Francia, se ne andò in esilio a Gerset e poi a Garnese nelle isole della Normandia. E quindi è di là che i figli, questo ritorno a Parigi, e quando ritornano i due figli per un'infezione, insomma, diciamo, e un altro per il tifo, insomma, muoiono, lasciando due bambini. Un'altra figlia, Adele, più piccola, però Adele purtroppo era pazza, Adele era una ragazza che non ha costituito il titolo di un film di François Truffaut, Adele H, Histoire d'Adele H, Storia di Adele H, e perché questa ragazza era innamorata di un soldato americano, impazzita dalla gioia, e poi se dovete rientrare in America, e lei lo ha finito, quindi nascosto da padre per raggiungerlo, se non che arrivò lì e lo trovò che si era sposato. Quindi lei ritorna, continua in crisi, finché, insomma, praticamente Vittorico muore, ma nasce questa figlia ancora viva, morirà nel 1915 nel manicomio vicino a lui. Non solo, e lui lasciò i soldi perché si accudisse gli interessi delle opere che si vendevano, perché si fossero utilizzati per questo, e i suoi libri alla Biblioteca Nazionale perché diventasse Biblioteca degli Stati Uniti d'Europa. Fu amica dell'Italia, lo dicevo nelle scale prima, scriveva dei messaggi, degli appelli agli italiani, quando venne Garibaldi per dire libertà, 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 aiutatelo, aiutatelo, e lo aspettava anche a casa sua, nelle isole bianese, perché Vittorico è un mostro di bravura, sapeva costruire, costruì un camionetto in casa sua rivestendolo di maioniche azzurre, dei mobili, un letto a baldacchino per poter arrivare, come si chiama, Garibaldi, costruiva, che video disegnava moltissimo, tanto che è diventato poi celebre, adesso dopo la morte si è diffuso in tutto il mondo, addirittura divingeva con il fiammifero e il caffè, bagnava il fiammifero di legno dentro il caffè e faceva questi schizzi. Io ne ho pubblicati alcuni per i bambini, per i suoi figli, ecco questo è Vittorico con i bambini Georges e Jeanne, gli episodi che racconta, ha scritto perfino dei girotondi, perché potessero giocare, che sono poi stati messi in musica, e questi sono i quattro figli, vedete, tutti e quattro, lui assisterà alla morte di questi quattro figli, e quindi sarebbe il padre più felice di averli avuti, ma il più triste, e Adele la piccolina. Quindi si inventò uno personaggio con una capo e due gambe, Pistà si chiamava, Pistà, Pistà, hai capito, spazio, e che siccome a Parigi ci fu il colera, allora tutte le famiglie si chiusero in casa e le tapparono le finestre belle per evitare che entrasse la possibilità del contagio, e lui ogni mattina faceva dei disegni e li metteva sul letto dei bambini, in modo che loro svegliandosi potessero sorridere e cominciare a raccontare. È stato un padre meraviglioso, un nonno meraviglioso, soprattutto quando racconta i giochi di Avellino, ricorda come giocavano, e come è diverso come nonno. Lui perdonava tutto, la mamma si ridava i figli perché si rubavano la marmellata, oppure una volta si ruppe un vasetto a cui la mamma teniva molto, oddio, tutta la cina per terra, perché era una vasocinista, e la mamma la mise in castigo, allora lui andava in castigo, le portava da mangiare, lui dice io perdono tutto, e leggere questo art, l'arte di essere nonno è qualcosa veramente di incanto. Lui dice che i bambini portano, quando nascono vengono direttamente dal paradiso, loro quando balbettano, non balbettano, stanno parlando in linguaggio che parlavano lì in paradiso, nel mondo della felicità, avranno le ali ancora. Ecco, se posso rispondere a qualche altra domanda, a più serie, a più, non so, volevo dire solo questo, perché ho preso accordi per vedere le due cripte sotto la chiesa di San Biancio, la chiesa di? San Biancio, non so qual è, questa è la chiesa di San Biancio, a chiesa di San Biancio, a fianco alla camera di San Biancio, la chiesa di San Biancio, non la conosco come l'Ambiancio, dell'Annunziano, l'Annunziano dell'Ambiancio, l'Annunziano dell'Ambiancio, è la prima, è di 721, no, l'Annunziano, Guardando i luoghi, ho assenso la chiesa di San Biancio, guardandolo il luoghi. Il luoghi. spero che la faccia molto prima. E' il luoghi. Io continuo mi ricordo. io mi ricordo la chiesa di San Biancio, guardando il luoghi, e idea. Ho sentito domandolo, ho sentito da chiudo a chiudere il luoghi, la chiesa di San Biancio, noto in avanti alla Где. Grazie.